benvenuti buonasera a tutti e gli altri come stanno gli altri esattamente 50 anni fa in queste che poi si sarebbero rivelate fatali cucine dell'hotel ambassador viene ucciso bob kennedy e mentre sta morendo lascia alle persone che sono accanto a lui queste ultimissime parole lui che se ne sta andando si chiede gli altri come stanno gli altri allora io intanto ringrazio voi tutti perché come mi diceva roberto stringa abbiamo avuto un record di richieste di adesione una delle serate dove c'è stato più interesse da parte del nostro pubblico delle persone che sono legate al corriere alla fondazione corriere e quindi grazie a voi che avete mostrato questa passione per la figura di pop kennedy poi ringrazio naturalmente la fondazione corriere che ci ospita qui in questa sala buzzati che per noi è molto importante perché riguarda proprio la nostra storia il nostro patrimonio culturale di non buzzati è stato l'anima del corriere della sera per decenni straordinario scrittore ma anche dal nostro punto di vista un meraviglioso giornalista e la fondazione corriere come sapete da tanti anni ormai è una gorà cittadina e in questo luogo si fanno delle discussioni sempre molto pacate e molto approfondite mi rendo conto di essere un po lontano dallo spirito dei tempi però insomma ci proviamo e gli invitati non forse posso anche non presentarli perché li conoscete benissimo lì via pomodoro la giurista che tutti amiamo e conosciamo presidente per tanti anni del nostro tribunale di milano poi umberto ambrosoli attualmente presidente della banca popolare di milano e il direttore di avvenire marco tarquinio io sono venanzio postiglione dirigo la scuola di giornalismo valterto baggi e nel tempo libero faccio il vice direttore del corriere e noi partiamo partiamo da un libro secondo me molto intelligente molto interessante e originale il libro è parola di bob le profezie di robert kennedy rilette commentate dai protagonisti del nostro tempo la forza del libro intanto riproporci i discorsi più interessanti significativi di bob kennedy e in particolare negli ultimi due anni della sua vita non solo ma in particolare e la seconda idea che noi tutti abbiamo molto apprezzato e chiedere ad alcune persone di commentare di rileggere queste parole di bob anche raccontando come era allora il mondo e come adesso un filo di 50 anni e devo dire che un eco di stampa molto molto significativa di cui siamo tutti felici e orgogliosi quindi a maggior ragione siamo contenti per l'idea che hanno avuto mauro colombo alberto mattioli che poi vi presenterò direttamente io partirei proprio in modo un po più largo vista anche la l'importanza dei nostri ospiti e comincerei a chiedere perché quello che ci stiamo chiedendo in questi giorni se lo stanno chiedendo i giornali italiani ma i giornali di tutto il mondo chiederei due cose la prima è perché il fascino di bob kennedy è ancora qui presente tra noi come 50 anni fa e la seconda se ha senso quello che i grandi mili americani si stanno chiedendo che sembra un gioco intellettuale e culturale invece ci colpisce nel profondo i giornali americani dicono what if cioè che cosa sarebbe successo se lui non fosse stato ucciso che è una cosa che naturalmente è un po' interessante un po ci colpisce un po purtroppo rimane così è un dubbio che rimane così sospeso ma se ci pensiamo riguarda anche tante straordinarie persone che poi non possono più darci il loro apporto partirei dalla presidente pomodoro per capire dal suo punto di vista perché questo fascino è ancora così forte e presente come se lui insomma avesse ancora tanto da dirci e raccontarci io credo che questo fascino dipende da quello che è stata la sua vita e da quello che è stata la sua testimonianza di vita si sente? vediamo se possiamo adesso si sente? ecco benissimo ecco dicevo che nell'immaginario collettivo bob kennedy era aveva una vita bella una vita importante una vita però fatta di grandi interessi non propri ma di interesse per l'umanità ecco se devo dire che se c'è che c'è una cosa che mi ha colpito sempre molto e poi rileggendo la biografia naturalmente eh di questo eh protagonista della storia non voglio dire americana della storia del mondo è proprio eh è proprio questa sua capacità di stare con le persone di avere interesse per le persone quel chiedere morente come stanno gli altri e gli altri è tipico e caratteristico di chi non pensa sempre e solo a se stesso ma di chi ha una dimensione ben più vasta secondo me bob kennedy sapeva di correre dei rischi e lui stesso lo dice in alcune in alcuni suoi scritti o in alcune sue dichiarazioni pubbliche eh sapeva di avere più nemici che amici e li indica anche non certo per nome e cognome ma indica le categorie di tutti coloro che erano suoi nemici per le sue idee per quello che lui propugnava per quell'idea di america che lui aveva eh diversa da quella del potere diversa da quella dei soldi del profitto a tutti i costi della indifferenza rispetto a coloro che vivevano in condizioni eh di precarietà, di povertà, di disagio e rispetto ai quali poi è andata che ha sempre la sua attenzione e la sua considerazione quando si parla di kennedy e si parla della sua storia personale peraltro una storia brevissima perché è morto giovanissimo noi parliamo dei suoi sogni noi parliamo delle sue aspettative politiche del suo impegno politico che era un impegno forte eh nella direzione che tutti noi ameremmo fosse propria dell'uomo politico ma eh a me ha colpito una cosa in particolare eh Kennedy eh soprattutto alla morte di Martin Luther King quando andò andò a fare il suo discorso eh pronunciò delle parole che credo siano la sintesi della ragione per cui tutti noi continuiamo ad amarlo a distanza di tanti anni disse che eh la diversità del suo modo di essere stava nel fatto che lui si rivolgeva agli altri con amore saggezza e predicava con passione gli uni verso gli altri credo che questo sia un messaggio testamentario tra i più belli che io abbia mai sentito perché non è fatto solo di parole noi abbiamo consentito tutti che era bellissimo parlare di parola di Bob ma in realtà eh e questo lo voglio dire perché mi sembra molto importante eh in questa sua dimensione umana non c'è solo la parola per affascinare il pubblico c'è il pubblico coloro che lo stanno ascoltando c'è la capacità di fare di quella parola azione nella direzione indicata e vi assicuro non è facile non è da molti e io credo che solo per questo lui ha pagato con la vita il suo impegno grazie Umberto Ambrosoli secondo me tanto grazie per questo invito e grazie a tutti coloro che hanno la pazienza di ascoltarmi per ascoltarlo non ci vuole pazienza ma sintetizzando al massimo io penso che la ragione per cui oggi guardiamo con attenzione all'esempio di Bob Kennedy è perché abbiamo in lui l'esempio forse fra i più alti degli anni relativamente recenti di capacità di prefigurazione del futuro e quindi di visione politica non di visione in prospettiva elettorale proprio di visione politica nel senso più nobile del termine anche quando quella visione impone una comunicazione con contenuti non capaci di generare consenso e un altro elemento che trovo fortissimo è che egli è esempio di coraggio nella responsabilità nella responsabilità la sua visione politica è una visione di governo della complessità non di fuga dalla complessità il cambiamento il cambiamento sociale che quegli anni stavano vivendo il cambiamento economico fortissimo che anche quegli anni stavano vivendo non sono sfuggiti sono governati e questo libro con tante testimonianze tutte convergenti esattamente in questo genere di contenuti a me personalmente serve per superare qualche dubbio che nel momento può anche venire sulle prospettive della politica la parola di Bob quella parola non è vuota quella parola è in sé promessa è ragionamento è condivisione del pensiero non è verba volant e questo porta alla seconda domanda che cosa sarebbe successo se la storia non si fa coi sé si fa con quello che era possibile prefigurarsi nel momento in cui un'azione viene intrapresa certo è che l'azione che Bob Kennedy poneva al centro della sua ricerca della responsabilità di presidente degli Stati Uniti d'America rende possibile immaginare che quella presidenza sarebbe stata molto diversa rispetto a quello che in realtà poi è stato rispetto a temi fondamentali l'integrazione il superamento quindi delle diversità sociali e delle tensioni sociali fortissime che proprio l'omicidio di Martin Luther King che con quello dei due Kennedy forma momenti cruciali della storia di quel decennio degli Stati Uniti d'America una visione degli Stati Uniti non come il paese che con la guerra risolve i problemi che ci sono da qualche parte ma il paese che cerca di portare la pace per risolvere i problemi che ci sono da qualche parte ecco questi elementi avrebbero fatto degli Stati Uniti d'America un paese con una leadership globale diversa da quella che invece poi si è sviluppata ma è un discorso totalmente teorico perché poi c'è da vedere nella difficoltà di gestione della responsabilità politica più alta che cosa gli sarebbe stato effettivamente possibile realizzare e questi sono secondo me i due elementi di fondo che riguardano il senso nel presente della figura di Bob Kennedy Buonasera, un doppio grazie a chi mi ospita stasera e a quello che mi hanno ospitato nel libro chiedendomi di curare la prefazione di questo volume con firme tanto prestigiosi accanto a quelle dei curatori Colombo e Mattioli perché mi affascina Bob Kennedy perché poi avevo dieci anni quando è stato ucciso ed è un'età nella quale se si è fortunati entrano come entravano in casa mia quattro giornali ogni giorno e leggi e il mondo ti tocca ti chiedi prima di tutto perché una fine così tragica del secondo di due fratelli straordinari che hanno saputo portare nel mondo un'immagine dell'America che somigliava in maniera benedetta a quella che gli italiani avevano conosciuto con la liberazione con l'inizio del nostro cammino democratico con la fine della guerra civile con la costruzione della Repubblica e perché se ti affacci alla vita in quell'età e alla curiosità sul mondo e trovi un uomo come Bob Kennedy che persino un bambino poteva capire quanto fosse capace di usare parole che accendevano la fantasia delle persone avendo però dentro un contenuto di realtà impressionante questo al principio è il fascino poi è chiaro che con la maturità ritornando a leggere quelle pagine ho scoperto anch'io come tanti e come troppi hanno dimenticato che Bob Kennedy è stato ucciso per le sue battaglie di giustizia probabilmente affrontando una lobby potente come quella del sindacato degli autotrasportatori ma sappiamo che c'è dell'altro dentro questa vicenda ma perché era un segno di contraddizione potente dentro la vicenda americana in quel momento della storia del mondo io nell'amplificazione l'ho scritto e qui mi collego già alla seconda parte della domanda che se Bob Kennedy fosse diventato presidente in quel momento in quel preciso momento quell'ultimo terzo del secolo breve sarebbe cominciato un processo diverso che Bob Kennedy non era solo un'altissima idealità politica era un'idea di politiche concrete questo lo diceva anche un italiano come Nino Andreatta esiste la politica? si esiste in realtà esistono le politiche che si fanno Bob Kennedy era uno che aveva un'idea delle politiche da fare in economia nella politica estera un multilateralismo che non era una formula vuota l'idea di un posto della nazione sulla scena del mondo un posto pieno di dignità e di forza ma in correlazione con altri che non erano solo pilastrini al fronte del grande pilastro americano una tentazione che ancora oggi vedo nella politica degli stati di America e tanto più al tempo della presidenza Trump un uomo capace con la sua idea delle relazioni di potenza dell'America con il resto del mondo e che potenza l'America dal punto di vista economico e militare era capace di concepire una globalizzazione diversa da quella che poi è andata crescendo per me l'ho scritto e ne sono profondamente convinto è un pensiero che da anni abita anche la mia riflessione come quella di altri poteva essere l'inizio di un'altra globalizzazione e io sono uno assolutamente insoddisfatto della globalizzazione che stiamo vivendo che considero un processo in sé interessante, positivo, equilibratore di tante ingiustizie che ci sono in potenza ma nelle mani di politiche sbagliate o inani che non incidono sui processi non perché solo il direttore del quotidiano Ispirazione Cattolica ci cito Francesco davanti al Parlamento Europeo ha dato una politica sottomessa alle logiche di una certa economia ed un capitalismo finanziarizzato che oggi sbrana la vita delle persone e l'economia reale del mondo Bob Kennedy era un uomo capace di guardare in un'altra direzione ed è un uomo di darci ancora oggi delle parole chiave, delle parole guida quando io ho cominciato sulle pagine del mio giornale insieme ai miei colleghi la battaglia perché in Italia entrasse nella valutazione di che punto è il giorno e la notte del nostro paese non soltanto l'utilissimo indicatore del PIL ma quello che in Italia avevamo inventato con il lavoro congiunto di Cnell e Istat il BES questo indicatore complesso sul benessere equo e sostenibile cioè calcolare lo stato di una nazione, lo stato dell'unione del nostro paese se c'è o della disunione sulla base di come vive la gente davvero al di là la ricchezza che viene prodotta, dei servizi di cui dispone diciamola la parola impossibile e cara più gli americani che a noi della felicità di cui siamo capaci e che ci diamo gli uni gli altri nella rete di relazioni che si tesse e c'era Bob Kennedy il suo famoso discorso nel quale diceva proprio questo poi magari troveremo un modo per citarle quelle pagine da Menanzio Postiglione sono sicuro nella sua regia l'ha previsto quindi non voglio rubargli il mestiere Bob Kennedy è stato il primo a usare parole in politica capace di dire a tutti e di farsi capire perfettamente che non basta sapere quanti bulloni abbiamo prodotto per dire che siamo una nazione felice e di successo e i cittadini ai quali ci rivolgiamo stanno ottenendo ciò che una comunità degna di questo nome deve realizzare per loro e questi sono i motivi perché io penso che un leader così perché un'America così avrebbe fissato l'asticella a un livello diverso avrebbe aiutato anche altri paesi per la forza contagiosa del sistema di vita americano e del suo sistema politico a imboccare un'altra strada un sogno forse però purtroppo non abbiamo la prova che così sarebbe stato ma abbiamo la prova che così non è stato perché sono mancati uomini come Bob Kennedy leader capaci di accompagnare il mondo su questa strada grazie grazie direttore per rispondere alla domanda anche se poi l'ho fatta io è una cosa un po' marzulliana di cui già mi pento e io avrei individuato ma di ognuno di questi punti parlerò 30 secondi cinque possibili possibili ragioni motivi per cui questo fascino è presente e onipresente che sono il 68 la tragedia da Camelot alle periferie l'idealista pragmatico e la conoscenza a sogno e vado brevemente intanto è l'anno di svolta è l'anno che cambia il mondo perché nel 68 mentre Kennedy gira per l'America a raccontare il paese che vorrebbe ci sono i bombardieri americani che lanciano le bombe sul Vietnam come sapete quindi c'è una straordinaria fibrillazione mobilitazione non solo americana ma planetaria ma in quegli stessi mesi c'è la primavera di Praga e quindi una prima crepa nell'ambito dell'Unione Sovietica e dei suoi paesi satelliti ci sono i ragazzi gli studenti francesi che bruciano il boulevard e ci sono due grandi protagonisti del nostro tempo che vengono uccisi a distanza di poche settimane che sono Martin Luther King che ha cambiato veramente il mondo e Bob Kennedy che what if stava per cambiarlo quindi non solo il 68 come ormai lo ricordiamo le manifestazioni eccetera qualcosa di infinitamente più complicato che riguarda tutto il mondo la tragedia perché chiaramente la tragedia che colpisce la famiglia fa di questo personaggio un personaggio immortale non a caso come per una profezia che si auto avvera Bob Kennedy in questi discorsi cita più volte incredibilmente i tragici greci nel bellissimo discorso citato dalla Presidente Pomodoro quando è appena morto Luther King e lui deve cambiare discorso in corso d'opera perché gli dicono che è morto Martin Luther King e lui si presenta con un discorso che butta e un altro che improvvisa lui comincia dicendo un grande un grande tragico greco Eschilo diceva il dolore cade goccia goccia sul nostro cuore e i tragici che lui cita in realtà poi è imprigionato nella tragedia della sua famiglia alla fine di se stesso il terzo punto è da Camelot alle periferie dicevo perché è quello che nel libro è un po' il sottofondo noi sappiamo che le idee politiche di cambiamento della società dei due fratelli in realtà poi sono molto diverse l'idea base di John Kennedy è quella di ricreare Camelot cioè una straordinaria elite che come elite cambia il mondo e non a caso è la mitologia di Camelot i cavalieri di Re Artù che si ritrovano e in un gruppo ristretto e nobile decide come dare una nuova direzione all'America laddove la campagna elettorale di Bob Kennedy si svolge quasi tutta nelle periferie dell'America e quindi a parlare con i giovani con i ragazzi con i nativi indiani che lui riscopre perché erano stati come sapete a mia mente abbandonati e con tutte le comunità anche di ispanici di cui poi abbiamo parlato tante volte nei decenni a venire ma che lui per la prima volta va a incontrare personalmente è proprio un ispanico che gli tiene la testa come abbiamo raccontato oggi sul Corriere nelle sue ultime ore e poi idealista pragmatico come diceva il direttore Tarquinio perché non c'è semplicemente il sogno il progetto il piano di un mondo che può avverarsi ma come farlo con quali politiche con quali strategie con quale programma economico addirittura e infine il rapporto fra conoscenza e sogno in quanto Kennedy è lui stesso una persona molto competente si circonda di uno staff di persone di grandi competenze e quindi il sogno di cambiare il mondo si basa su qualcosa di che è accanto a lui e che è fatto di talenti e competenze allora io penso che per un brevissimo momento bisogna adesso dare la parola come giusto poi riprendiamo il filo qui sul palco agli autori che ringrazio ancora che sono Alberto Mattioli in primis e Mauro Colombo in primis solo perché cominciamo da Alberto poi da Mauro ma non c'è il primo e il secondo e a cui chiederei intanto com'è nata l'idea del libro e del libro impostato così e che cosa voi in questo studio in questo scavo che avete fatto per tanto tempo avete afferrato e capito dalla figura di Kennedy ma buonasera a tutti innanzitutto grazie a tutti voi che siete qui questa sera che partecipate alla presentazione del libro grazie a Venanzio al Corriere della Sera che è la fondazione che ci ospitano grazie agli amici che hanno partecipato con noi alla stesura al concepimento del libro e riporto anche i saluti della fondazione Robert Kennedy e penso di poter interpretare tranquillamente anche i ringraziamenti di Carrie Kennedy la figlia di Bob che nel libro tra l'altro insomma raggiunge tutti quanti noi con un suo messaggio personale abbiamo iniziato con quella le ultime parole di Bob Kennedy e gli altri come stanno e gli altri come stanno gli altri e quando Mauro mi ha chiesto cosa ne pensavo di realizzare con lui questo libro mi sono rivolto alla domanda e così anche inizio la mia introduzione e io come sto dopo 50 anni dalla sua morte dopo 50 anni da quegli avvenimenti noi come stiamo dopo 50 anni da quegli avvenimenti dopo quel momento di grandi speranze di quei sogni il 68 come sto oggi la risposta è che non sto bene sinceramente lo spirito non sta bene infatti anche l'Istat dice che siamo una società che ha perso il senso della speranza più dolorosa più incattivita meno meno fiduciosi della speranza e quindi pensando di interpretare ho detto se sto così penso che mediamente saranno così tanti altri ho pensato che questo potesse essere un contributo perché quando non si sta bene dentro quando lo spirito è infiacchito bisogna tornare alle sorgenti delle nostre speranze dei nostri addori dei nostri ideali bisogna per andare avanti bisogna paradossalmente tornare un po' indietro e quindi mi è sembrato che questa figura con la potenza delle sue parole l'esempio della sua vita potesse essere un contributo a ritrovare un po' di speranza per il nostro spirito infiacchito e quello che ho reimparato è questo che noi possiamo parlare la pancia possiamo parlare il portafoglio ma non c'è niente da fare se non parliamo allo spirito se non c'è nutrimento per lo spirito andiamo di fronte alla decadenza personale sociale comunitaria politica tutto nasce dallo spirito è un fattore umano e quindi abbiamo bisogno di persone esempi che sappiano andare lì dove scendono le gocce più profonde del dolore della speranza e quindi questo è un contributo e ho pensato anche quindi che questo potesse essere un contributo per tutti coloro che non si arrendono non si arrendono di fronte alle cattiverie non si arrendono di fronte ai razzismi ancora imperanti alla corruzione ancora imperante non si arrendono alle malvagità del nostro tempo alle parole che distruggono le parole sono importanti parola di Bob è stato Mauro che ha individuato il senso di un elemento necessario oggi per la nostra società il valore della parola perché come sappiamo le parole o distruggono o sono semi e fanno crescere e a distanza di 50 anni siamo ancora qui a parlare di Bob Kennedy quindi ha seminato e ancora oggi siamo qui a raccogliere e quindi l'esempio di una parola di una persona che ha saputo coniugare le parole parlare allo spirito degli ultimi in particolare e ha saputo dare l'esempio con una determinazione enorme un coraggio enorme mettendo sul piatto della bilancia tutto quello che poteva mettere che era la sua vita poteva avere tutto ha messo sul piatto della bilancia quello che poteva per dire sono credibile la vita stessa e quindi ecco la competenza con cui ha affrontato ne ha creato di odio perché con le sue battaglie non ha guardato in faccia nessuno però diceva a tutti e chiudo ammoniva e forse questo è l'ammonimento che oggi rivolgerebbe nella nostra società attenzione alla forza distruttrice dell'odio combattete ma seminate sempre speranza e amore perché altrimenti è una distruzione totale le parole possono essere anche armi di distruzione totale oppure possono far crescere la speranza l'idea di un cambiamento e di una nuova società quindi grazie ancora Mauro Colombo grazie buonasera a tutti anch'io ovviamente mi associo ai ringraziamenti che ha fatto Alberto e non per rimbalzarci i meriti però devo dare merito e atto a lui dell'intuizione che è alla base di questo lavoro quando ci si muove sul terreno delle commemorazioni è sempre abbastanza facile inciampare nella retorica e nel caso di un personaggio come Robert Kennedy questo rischio aumenta in modo esponenziale perché la sua figura si intreccia con il sogno americano con il mito degli anni sessanta evoca quell'alone di gloria e tragedia qui faceva già riferimento Venanzio Postiglione che da sempre circonda un po' la sua famiglia per evitare questo rischio ed è in questo che l'intuizione di Alberto è stata fondamentale abbiamo cercato di andare alle radici del suo pensiero e quindi di ripartire dai suoi discorsi riletti e commentati poi è stato ovviamente all'abilità dei nostri commentatori riuscire ad analizzare non solo l'impatto che quelle parole hanno avuto nel tempo e nel mondo di Kennedy ma anche quello che possono dire a noi ancora oggi per quanto mi riguarda personalmente questa questa lettura questi discorsi queste parole mi hanno provocato una triplice reazione mi hanno emozionato mi hanno colpito e mi hanno inquietato mi hanno emozionato perché anche a 50 anni di distanza conservano intatta la loro capacità di coinvolgimento e di mobilitazione al tempo degli antichi greci a cui Robert Kennedy effettivamente attingeva molto come fonti dei suoi discorsi si diceva che quando parlava Eschine gli atteniesi commentavano come ha parlato bene quando parlava De Mostri invece la reazione era uniamoci e mettiamoci in maccia per quanto Robert Kennedy fosse un oratore non naturale ma che si era costruito nel tempo credo che la stessa cosa si possa dire di lui secondo luogo mi ha colpito per la straordinaria lucidità con cui ha saputo prefigurare degli scenari che oggi sono sotto gli occhi di tutti l'Avvocato Ambrosoli ha trattato per noi il tema della tutela dell'ambiente ecco quello che diceva Robert Kennedy noi respiriamo i rifiuti di ciò che produciamo oggi può sembrare scontato e perfino banale certo non lo era negli anni 60 quando il mondo era preoccupato esclusivamente di produrre con qualunque mezzo a qualunque costo e senza badare troppo le conseguenze e infine mi ha inquietato nel notare l'estrema divaricazione tra quello a cui tendevano gli ideali di Kennedy nelle risposte che oggi dà la politica il presidente Pomodoro ha parlato della lotta della violenza della non violenza di Robert Kennedy Kennedy considerava la violenza personale e collettiva un motivo di degradazione morale dell'intera nazione oggi di fronte alle stragi che periodicamente insanguinano le scuole americane la risposta che arriva dalla massima espressione politica del paese cioè la Casa Bianca è quella di armare anche gli insegnanti perché possano difendersi che è una logica secondo me da far west non da terzo millennio ma neanche da quegli anni sessanta che Robert Kennedy ha attraversato col suo impegno con la sua passione con le sue idee che se anche non hanno prodotto frutti concreti a causa della sua morte iniqua e precoce hanno comunque lasciato un segno profondo nelle coscienze grazie pronto eccoci grazie Mauro grazie anche per questo riferimento alle armi che è una di quelle cose che ci sconvolge sempre mi ha fatto venire in mente una frase straordinaria di Philip Roth che dice ad alcuni hanno lasciato in eredità un'arma a me hanno lasciato in eredità l'alfabeto tra una cosa veramente geniale e a questo proposito a proposito di armi e di alfabeti la presidente Pomodoro è andata a commentare uno dei discorsi più famosi e più ispirati di Bob Kennedy quello di Cleveland del 5 aprile 68 all'indomani dell'uccisione di Martin Luther King tra gli altri passaggi Bob Kennedy scrive possiamo forse ricordare anche solo per un momento che coloro che vivono con noi sono nostri fratelli che condividono con noi lo stesso breve arco di vita e che cercano come noi tutti solamente la possibilità di vivere la propria vita con uno scopo e nella felicità conquistandosi la soddisfazione e l'appagamento che possono tant'è vero che Divya Pomodoro ricorda alcune battaglie pragmatiche fatte a Bob Kennedy quindi non solo accademiche quella contro il crimine organizzato quella per l'affermazione delle lotte che le nuove comunità conducevano a partire dal secondo dopo guerra e quella celebre del settembre del 62 per inviare le truppe federali a Oxford Mississippi e far rispettare quella famosa sentenza della Corte federale che ammise il primo studente afroamericano dell'università che adesso sembra quasi che è come se stessimo parlando di un altro pianeta di un'altra civiltà di un altro millennio stiamo parlando di 50 anni fa anzi 62 50 anni fa più 6 anni 56 anni fa ecco cosa l'ha colpito di questo discorso perché devo dire bello il discorso mi permette di dire che anche il suo commento è veramente molto bello molto ispirato beh insomma questo possono questo può colpire chiunque lega con attenzione ciò che Kennedy ha detto e ha scritto Kennedy aveva un'attenzione particolare per coloro che si trovavano in disagio esistenziale io avevo ricordato in un'altra occasione appunto i nativi americani che peraltro ho personalmente conosciuto i bambini del Mississippi che vivevano in condizioni molte zone del delta del Mississippi molte zone e forse ancora oggi questo non lo so di povertà assoluta e di degrado e lui metteva in confronto questa america della povertà e dei bisogni con la corsa agli armamenti la famosa guerra del Vietnam di cui si parlava che è poco fa e che lui non aveva condiviso comunque perché la sua visione del mondo era diversa ma quello che mi colpisce moltissimo e devo dire per ragioni più giuridiche che altro è il fatto che Kennedy abbia finalmente teorizzato nei suoi discorsi lui era ministro della giustizia abbia teorizzato nei suoi discorsi ciò che per noi sembra usuale noi diciamo per la nostra antica tradizione di essere i fautori dei diritti umani dei diritti del rispetto della persona dell'individuo dovunque si trova in qualsiasi condizione io stessa da tanti anni forse per tutta la vita mi sono battuta e continuo a battermi proprio per i diritti umani ma Kennedy parlava ad una popolazione ad una società che non conosceva e non conosce ancora oggi la parola diritti umani conosce la parola bisogni due anni fa all'assemblea generale delle nazioni unite a settembre due anni fa insieme con un gruppo di ambasciatori di studiosi avevamo proposto come accadeva peraltro da molti anni all'assemblea delle nazioni unite una convenzione sui diritti una mini convenzione una convenzione però come devo dire globale che comprendeva tutti i 188 paesi delle nazioni unite appunto sui diritti umani tra cui il diritto al cibo di cui io mi occupo ancora oggi il diritto allo sviluppo sostenibile all'alimentazione e così via diritti che sono tutti collegati tra di loro perché hanno al centro la persona e il rispetto della persona questa in realtà più che una convenzione è una proposta di convenzione io penso che continuerò a lottare perché se arrivi poi ad una convenzione ma comunque in quell'occasione era stato presentato un documento a firma di Cuba che veniva ripresentato tutti gli anni all'assemblea delle nazioni unite per far passare quest'idea che si dovesse lavorare tutti insieme alla tutela globale dei diritti umani perché evidentemente non ci devono essere diversità in realtà questo è quello che pensava Bob Kennedy quella risoluzione due anni fa come negli anni precedenti non è mai passata neppure alla votazione per il veto degli Stati Uniti d'America questo a mio giudizio la dice lunga sulle difficoltà che Kennedy ha trovato nel suo stesso paese e in momenti nei quali peraltro i diritti degli individui venivano cominciavano a venire fuori cominciava a venire fuori che le diversità non giustificano la separatezza non giustificano la mancanza di diritti in capo ad un soggetto pensate all'ingresso del ragazzo di colore nell'università di cui abbiamo parlato prima ad Oxford nel Mississippi e Kennedy aveva avuto questa intuizione che il bisogno è il momento primordiale al quale noi vabbè noi siamo apparteniamo alla categoria dei giuristi abbiamo noi non siamo un paese di common law i paesi di common law fanno subito questa distinzione e amano parlare dei bisogni ma come noi stiamo venendo incontro ai bisogni dell'umanità voi dovete venire incontro ai diritti dell'umanità voi pensate che cos'è il grande discorso della eradicazione della povertà parliamo solo di questo l'eradicazione della povertà dell'eradicazione della fame è uno dei principi fondamentali a quale si ispirano da ultimo i millennium goals che andranno che sono stati peraltro approvati dall'Italia e che andranno in vigore fino al 2030 a cui noi abbiamo sottoscritto per cercare di fare qualcosa nel mondo ma voi pensate che sia facile combattere la fame combattere l'eradicazione della povertà combattere le tante miserie che ci sono nel mondo se questo non è legato ad un diritto fondamentale dell'individuo dovunque si trovi e chiunque sia quell'individuo io trovo che è straordinaria la lezione di quest'uomo che sarà stato anche ispirato dai suoi collaboratori particolarmente attenti ma in un'America in cui peraltro si considerano molto buoni si considerano molto mi dicevano coloro che erano consiglieri come dire persone dell'apparato delle Nazioni Unite ma perché voi vi battete tanto per questa cosa in fondo l'America ha sempre fatto fronte dove ha potuto ai bisogni dell'umanità dal bisogno al diritto c'è uno scalino che sembra corto ma è grandissimo da colmare ed è quello che riconosce il rispetto ad ogni persona Bob Kennedy questo l'aveva capito Presidente Ambrosoli proviamo a fare un salto di 50 anni e arriviamo in un anno a caso il 2018 e il tentativo di Bob Kennedy di arrivare nelle periferie americane di presentarsi alle comunità e quindi di cambiare anche l'agenda politica americana come possiamo declinarlo oggi? quando come sapete sta succedendo qualcosa che è veramente unico nella storia occidentale c'è questa separazione fra il popolo vera o presunta che sia? Sì nel mondo occidentale tutto negli Stati Uniti d'America e con coniti parti prima e con l'elezione poi di Trump in Europa l'abbiamo visto da certi punti di vista con la Brexit ci si è arrivati a tanto così in Francia in Italia teniamolo un attimo da parte però se guardiamo i paesi dell'Europa dell'Europa diciamo dell'Est quel misto di populismo lo dico non per svilirlo eh di populismo e nazionalismo così lontano dal dall'esempio intorno al quale ci stiamo incontrando oggi ma così lontano anche da una cultura che per tanti anni l'Europa e tutto il mondo occidentale hanno cercato di far affermare oggi abbiamo parlato di l'elite abbiamo parlato anche di competenza e sono due parole brutte di questi tempi o meglio sono due parole molto a rischio l'elite tra l'altro vede in un soggetto come Kennedy un emblema che più emblema di così non si può il padre era un uomo d'affari importante abbastanza scaltro è stato poi presidente della commissione di borsa dove è stato chiamato a riformare le regole che avevano permesso la crisi del 29 della quale egli stesso aveva approfittato è stato poi ambasciatore a Londra degli Stati Uniti dal 38 al 40 se non ricordo male uomo di potere il fratello è stato presidente degli Stati Uniti d'America lui stesso ha ehm preso parte all'elite prima anzi in ultimo come attorney general e prima partecipando anch'esso a importanti commissioni inclusa quella su offa ehm ecco in passato la parte che riguardava lui direttamente lasciamo da parte un attimo il padre era quello che veniva chiamato cursus onorum che ti dava gli strumenti per assumere una determinata responsabilità ti forniva della competenza necessaria per far fronte alla complessità che chi vuole assumere una responsabilità politica deve assumere oggi oggi l'importante è essere altro gli Stati Uniti in una maniera un po' particolare ehm però è fuori di dubbio che l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America non sia appartenente all'elite politica tradizionale ad altra tipologia di elite ma ha avuto la capacità di raggiungere il consenso soprattutto fuori dalle grandi città soprattutto nell'America più in difficoltà nell'affrontare il cambiamento proprio rappresentandosi come qualcosa di totalmente diverso rispetto a quelle lì però attenzione perché la competenza ha la sua importanza tra l'altro è interessante prima giustamente si faceva riferimento a come oggi si risponda all'emergenza della violenza nelle scuole dicendo si armino i professori è anche questo un pragmatismo che risolve forse forse un fatto contingente ma certo è assolutamente incapace ad affrontare un fenomeno e le radici di quel fenomeno ma è vista come competenza quella di dare una risposta immediata immediata con un suo barlume di efficacia qualche giorno fa c'era un articolo interessante qua arriviamo all'Italia che metteva in linea alcune contraddizioni cadute solamente in dieci giorni ad esempio sul fatto che il nostro Presidente della Repubblica che al nostro Presidente della Repubblica aspettasse la scelta dei ministri e poi quella stessa persona che aveva espresso questo concetto che tra le altre cose è abbastanza intrinseco nella nostra Costituzione pochi giorni dopo dice tradimento attentato allo Stato perché ha voluto mettere becco nel nome dei ministri e da lì l'idea di un impeachment e poi due giorni dopo ha fatto benissimo a fare tutto quello che ha fatto e il giornalista diceva siamo dei siamo come dei telefonini con la memoria piena resta solamente l'ultimo input quello precedente l'abbiamo l'abbiamo perso è vero mi ci riconosco anch'io perché in quell'articolo che pur ripercorreva pochissimi giorni delle cose ho detto ah già me le ero dimenticate invece è successo l'altro ieri non è successo tanto tempo fa e questo ci porta a un altro elemento che secondo me appartiene al tema della aspettativa di competenza del cittadino rispetto all'elettore rispetto a colui che viene eletto che è quello della coerenza ma oggi della coerenza non sembra più farsi valore anzi perché l'importante è togliere di mezzo l'elite e nell'elite poi c'è dentro tutto addirittura chi è competente fuori dalla politica è per definizione l'elite perché perché si è formato quella competenza in un ambiente specifico che è governato da un'elite quindi lui fa parte dell'elite i farmaci le banche le telecomunicazioni con tutte le cose brutte che fanno le antenne che trasmettono onde che non voglio definire perché sennò arriviamo agli argomenti tipo sci e chimiche io lì non mi ci ritrovo più però siamo in un mondo che è straordinariamente diverso rispetto a quello nel quale Kennedy è stato capace di lanciare una visione il che non vuol dire che nessuno oggi debba essere in grado di lanciare una visione in primo luogo il che non vuol dire che stiamo assistendo a un fenomeno che la storia non conosce a occhio e croce che ne so tra Silla e Cicerone scusate tra Silla e Giulio Cesare c'è stato un cambiamento sociale politico più traumatico di quello che stiamo osservando in questo momento i posteri diranno come sempre i posteri anche più nobili perché più vai indietro più è nobile l'esempio al quale ti richiami e qui chiudo perché l'indietro ci porta a una considerazione che aveva fatto qualche tempo fa Bowman parlando della retrotopia quella tendenza che è dei nostri giorni di guardare nel passato anzi di guardare al passato come al momento glorioso e confrontare il presente che ha le caratteristiche che ha descritto prima Alberto Mattioli per lo meno per lo spirito con il quale ci guardiamo e pensare pragmaticamente che basta cancellare le differenze per tornare al passato glorioso ecco dietro alla capacità di quello che definiamo populismo di raccogliere consenso alcuni dicono che c'è lo straordinario sconvolgimento dell'economia frutto della globalizzazione della fase attuale della globalizzazione altri e sono due studiosi americani che hanno pubblicato un lavoro molto interessante di grande successo dicono no guardiamo un attimo l'età media mi ci metto anch'io fra i non più giovani ovviamente a sostenere quei fenomeni sono tendenzialmente Brexit è un esempio eclatante coloro che hanno vissuto l'esempio di un passato che identificano come migliore rispetto al loro presente e identificano nelle cause del cambiamento anzi identificano come cause del cambiamento fenomeni enormi e importantissimi che non possono essere fermati ma che si ritiene di non poter immaginare di governare pensiamo al fenomeno dell'immigrazione dei flussi migratori che noi conosciamo e allora passa più facilmente il pensiero fermiamoli respingiamoli anche se si sa che questo non è possibile e non è conveniente piuttosto che un pensiero complesso e sfidante come quello di governare il cambiamento direttore nella nostra riunione del mattino al corriere ci è capitato di fare un salto sulla sedia ormai negli ultimi anni ci capita quasi ogni giorno devo dire per completezza di informazione ma oggi il salto è stato particolarmente alto perché il capo degli esteri la collega Mara Gergolet ha detto beh una delle notizie di oggi è che l'ambasciatore americano a Berlino il neo ambasciatore americano ha detto che fra i suoi obiettivi ci sarà quello di rafforzare i movimenti populisti in Europa che è molto interessante anche perché crea un corto circuito diplomatico culturale non da poco anche perché in parte i movimenti populisti europei sono anche per il ridimensionamento dell'Europa ok ma anche per un asse privilegiato con la Russia invece che con l'America stessa che un ambasciatore americano tendenzialmente dovrebbe privilegiare insomma ecco quindi sta succedendo qualcosa di molto particolare e quindi rifaccio un po' a te la domanda che facevo ad Ambrosoli cioè che cosa sta succedendo di vero o di presunto fra l'elite e il popolo vabbè che cosa sta succedendo intanto quello che abbiamo sotto gli occhi tutti è che aumenta la distanza il nostro è un mondo in cui tutte le distanze diventano più forti e più profonde e questo è il dramma viene dal punto di vista economico vi devo ripetere lo so che adesso non va di moda citare le ONG io le cito e le difendo ma Oxfam nei suoi rapporti ci ha raccontato negli ultimi anni quello che è accaduto siamo passati dal 2010 quando c'erano 388 signori per un senato del mondo che da soli valevano quanto la metà più povera dell'umanità 388 signori ha il rapporto del 2016 che parlava di 8 signori che da soli valevano la metà più povera dell'umanità questo cos'è? un'idea? no è un dato di fatto che fa riflettere sui processi in corso sempre di meno coloro che controllano sempre di più in un mondo nel quale bastano delle fluttuazioni sui derivati delle materie prime alimentari per precipitare milioni di persone sotto la soglia di sopravvivenza un mondo nel quale la concentrazione stiamo assistendo a operazioni portentose negli ultimi giorni stanno portando nelle mani dei tre multinazionali il controllo di tutto il mercato delle sementi a livello globale questi sono i processi sui quali la politica deve mettere gli occhi io sono sicuro che un Bob Kennedy avrebbe avviato processi nei quali tutto questo cioè voglio dire la dico in un altro termine ancora facendo un riferimento a un fatto preciso è figlio di quella storia Bill Clinton ma io non so se Bill Clinton quando gli è toccato il reggio degli Stati Uniti dell'America avrebbe fatto la legge che ha consentito il matrimonio tra banche d'affari e banche commerciali l'ha fatta Clinton ma non so se l'avrebbe fatto se Bob Kennedy avesse declinato le sue politiche con compiutezza prima di quel momento perché avrebbe orientato in un altro in un altro modo la storia questo è il problema sta accadendo i paradossi che tu hai evocato caro Venanzio che da una parte scopriamo i rapporti privilegiati non solo di Orban non solo gli sloveni non solo del patto di Visegrad con la Russia del nuovo czar Vladimir Putin ma chiamiamola la fratellanza di armamentario ideologico di frasario di suggestioni proposte ai propri elettorati con l'America di Donald J. Trump un'altra convergenza incomprensibile ma fattuale tra i due poli in questo momento che sono opposti lo vediamo nel vicino oriente ma poi inopinatamente convergono su alcune portanti io l'idea la dico la mia anche perché non è una novità non è una sorpresa che ci siano quelli che stanno lavorando alla frantumazione del mondo alla rottura di tutte le reti di solidarietà dentro le società e tra le società dentro gli stati che sostengono questi processi perché un mondo fatto da monadi è un mondo molto più controllabile manipolabile che si tratti delle persone dentro le nostre società una società nelle quali sempre più i singoli contano i singoli sono fondamentali lo diceva bene il diritto inviolabili della persona dell'individuo in quanto tale hanno cambiato la storia hanno consentito il salto dalla polis dalla città dell'antichità alla civitas la polis tendenzialmente esclusiva istituti dell'ostracismo la cività sta anche nella nostra tradizione civile inclusiva tutti avevano un posto nella città con le relazioni che si creavano nelle arti nelle corporazioni nella vita associata oggi la consideriamo le mura della città sono porose per definizione proteggono dall'offesa ma non escludono l'inclusione mai anzi il grande processo in senso positivo dell'imborghesimento della gente delle campagne era quello di avere il proprio posto e io da partecipi della nostra cultura penso che questo sia il punto chiave culturale politico e vedo un processo che punta invece all'isolamento e quindi all'isterilimento e quindi all'incattivimento queste sono le tre i che mi preoccupano enormemente nelle nostre società e vedo che ci sono delle portanti politiche che lavorano in questa direzione allora è chiaro che non è una questione di un complotto è di un calcolo signori miei siamo davanti a un calcolo preciso queste sono le società a misura di una politica senza ideali è apocalittico? e beh non è apocalittico questa è una sfida non siamo davanti alla fine dei tempi non siamo davanti alla fine della storia siamo davanti a qualcosa che ci chiede di cominciare un'altra storia di non rassegnarci a questa corrente del tempo a vedere i processi in corso a interpretarli appunto per la provocazione enorme alla nostra umanità perché dentro tutto questo ci sono le persone che abitano le periferie ridotte a manovalanza di un processo profondamente antisolidale e questo va visto compreso e accettato come qualcosa che non si può accettare lo dico con qualche passione e vabbè penso che sia alla scuola di Bob Kennedy venga il tempo nel quale bisogna disarmare definitivamente le mani e armare definitivamente le passioni la conversione che riesce a operare al funerale di Martin Luther King dove si stava armando qualcosa di incontenibile e lui con la forza delle parole dei classici e una sua oratoria senza neanche amplificazione come si usava quelle parole ripetute di bocca in bocca queste sono le reti e le reti solidali che mettono in circolo le parole che cambiano gli eventi mentre gli eventi cambiano e quindi cambiano la storia se siamo capaci non so se se t'ho risposto fino in fondo ma questo è quello che porto in cuore figlio di Bob certo che mi hai risposto direttore ti ringrazio fra discorsi più interessanti del libro c'è quello davvero è il caso di dire non è una frase fatta profetico che 15 giorni prima di morire lui tiene a San Francisco il 21 maggio del 68 dico profetico perché in realtà questo discorso che poi gli autori mi hanno affidato è veramente un programma politico io adesso sempre brevemente rapidamente provo a leggervi un paio di frasi perché chiudendo gli occhi potremmo dire che è un discorso che ha assolutamente senso e che immaganginava un po' quello che poi sarebbe successo negli anni a venire intanto siamo a maggio del 68 e a chi parla il pubblico quel giorno è come sempre molto variegato tutti gli stati sociali culturali tutte le comunità molti giovani molti giovani che di lì a qualche anno sarebbero stati gli inventori della Silicon Valley lì a pochi chilometri quindi evidentemente c'era un seme di fiducia di innovazione che che si sentiva si percepiva e poi la percezione quando siamo a maggio e quindi il 68 non si può ancora giudicare storicizzare la percezione che dice Kennedy è chiaro fin d'ora che il 68 rimarrà come l'anno in cui è iniziata la nuova politica del prossimo decennio e oltre è l'anno in cui la saggezza politica vigente si è dimostrata incapace di confrontarsi con l'agitazione dei nostri tempi di ispirare i nostri giovani una cosa è certa la vecchia politica deve diventare una cosa del passato e quindi lui si risponde quindi qual è la politica dei prossimi anni intanto l'elemento più ovvio della politica che sarà è la partecipazione del cittadino il coinvolgimento personale e questa l'unica chiave possibile per il cambiamento secondo l'occupazione l'occupazione per tutti coloro che ora si trovano in una condizione di inutilità o perché sono invisibili ignorati e indesiderati la realtà o la retorica dei forgotten man è percepita immaginata e intuita da kennedy dobbiamo dobbiamo invertire la crescente accumulazione di potere e autorità da parte del governo centrale e washington per riportare per riportare il potere di decisione al popolo americano nelle sue comunità locali straordinario eh esatto i corpi intermedi le comunità locali perché washington altrimenti diventa un nemico non possiamo consentircelo ripartiamo con la partecipazione alle comunità locali e poi e qui interessante perché lui archivia la lunga illusione di riproporre il new deal anche in epoche che sono totalmente differenti e lui chiude con la suggestione del new deal rusveltiano perché dice il momento del pieno coinvolgimento del sistema di impresa privata perché l'impresa privata che noi dobbiamo incoraggiare a cui dare i nostri massimi sforzi e qui il punto chiave la frattura rispetto alla vecchia politica perché lui immagina che molto debbano cambiare i liberal e molto debbano cambiare i conservatori da una parte i liberal non possono cominciare a immaginare che la risposta a tutto e tutti sia semplicemente spendere più soldi così come dice i conservatori repubblicani devono capire che anche alla base del loro programma non può che esserci l'urgente necessità di dare opportunità a tutti i cittadini quindi chiede al suo stesso partito di abbandonare la politica della spesa comunque lo stato c'è e dappertutto e agli avversari di abbandonare questa retorica per cui meno stato c'è meglio è perché invece il terreno comune è non solo sui diritti ma anche sull'uguaglianza delle opportunità e come vedete è veramente un messaggio che ci parla ancora io poiché ci siamo avvicinati alle conclusioni chiederei alla Presidente Pomodoro di dirci lei un'ultima parola di che cosa si porterebbe dei discorsi di Kennedy nel 2018 così a quel punto possiamo chiudere io posso dire soltanto una parola la speranza nel futuro e devo anche dire che il discorso del direttore dell'avvenire è stato un discorso chiaro e condivisibile io però voglio aggiungere dal mio punto di vista che la forza dei diritti degli uomini una volta che siano adeguatamente conosciuti e soprattutto che se ne comprenda l'importanza e la rilevanza possono fare in ogni stato in ogni paese in ogni comunità la differenza allora io vi ringrazio molto più di un'ora ma devo dire molto molto preziosa per tutti noi e vi ringrazio mi scuso soltanto di una cosa che nessuno ha urlato e nessuno ha litigato proveremo a fare meglio grazie 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 grazie